La VAT al centro della radiologia nazionale con il 14esimo congresso scientifico di radiodiagnostica a Valenza Nazionale dal titolo Progressi In. A cura del dottor Tommaso Scarabino, direttore dell'unità operativa di radiologia del presidio ospedaliero di Andrea Eccanosa e del dipartimento di immagini e diagnostica dell'ASLBT, è realizzato a Trani, a Palazzo San Giorgio, un convegno che torna a quattro anni dall'ultima volta a causa dell'emergenza Covid e che sta accogliendo giovani professionisti e specializzandi da tutta Italia. Il congresso durerà quattro giorni e toccherà diversi temi, dall'eco color Doppler alla radioprotezione, passando per lo stato dell'arte in senologia. La radiodiagnostica è in continuo aggiornamento. Sicuramente a tutti i livelli, è il motivo per cui abbiamo voluto focalizzare il nostro interesse sulla ecografia, sulla interventistica, sulla senologia, sulla risonanza. I progressi tecnologici in radiologia sono sempre più evidenti anno per anno e quindi avremo modo con i vari relatori che verranno da tutta Italia di illustrare appunto tali progressi. Nonostante la lunga assenza, la quattordicesima edizione del congresso ha fatto registrare 300 partecipazioni da tutta Italia con i giovani professionisti in prima linea. Quest'anno abbiamo oltre 100 specializzanti che arrivano da Palermo, Reggio Calabria, Firenze, Ferrara, Torino, a dimostrazione che questo evento che è a Valenza nazionale è un punto fermo nel panorama congressuale italiano. L'appuntamento è promosso dalla ASLBAT, un'occasione per la stessa azienda sanitaria della sesta provincia pugliese di fare il punto sui passi avanti messi in campo e mostrare le proprie eccellenze. Possiamo far vedere all'Italia intera, non solo alla regione, a che punto siamo, quindi con una grande radiologia di Andria, di Barletta, di Trani, un grande servizio di scenologia perché noi a livello di screening siamo i primi in Puglia nella nostra provincia e quindi è giusto che tutti sappiano che cosa siamo capaci di fare nel nostro territorio. Scienza e anche solidarietà, la conclusione del congresso sarà nel segno di una raccolta fondi per sostenere l'emergenza ucraina. Appuntamento a Biceglie con un grande artista italiano. Nella giornata di venerdì sera, tradizionalmente come in tutti gli eventi che si sono susseguiti nell'anno, ci sarà un evento di beneficenza. Quest'anno presto il teatro Politeama di Biceglie, quest'anno vedrà l'esibizione di Fausto Leali, ricavato, strade, voluto in beneficenza, logicamente in questo periodo con un particolare occhio a quello che sta succedendo in Ucraina.